Benvenuto professor Franco Mandelli. Buongiorno. Professore, curare è prendersi cura. Un libro che lei ha scritto per Sperling e Kupfer. Tra l'altro i proventi andranno all'AIL. Alle sezioni dell'AIL di tutta Italia. Ecco, c'è un'affermazione importante da cui prende il via questa sua riflessione. Per fare il medico non ci vogliono solo competenza e studi validi, ci vuole anche cuore. È una scuola di pensiero che si va affermando sempre di più all'interno della vostra comunità. Io credo sia una cosa fondamentale per curare al meglio i nostri malati, tutti i malati. Io parlo dei malati affetti da malattie del sangue. Mi sono occupato di malattie del sangue da più di 50 anni. E devo dire la verità che è molto giusto quello che lei ha detto. sta facendosi sempre più importante per tutti, per i malati innanzitutto, ma anche per tutto il personale che cura i malati. Medici, infermieri. Questo aspetto fondamentale. Il malato deve essere curato con le migliori cure possibili, per portare, se possibile, alla guarigione. Ma per arrivare a questi risultati bisogna che il malato sia seguito, io direi, con tanto amore. Cioè il malato non può essere abbandonato a se stesso. Il malato e i suoi familiari. Perché malato e familiari hanno bisogno di avere un supporto dal medico che li cura. Lei, ai suoi malati, proprio procedendo con questo spirito, dice tutta la verità. Perché come si fa a fare una diagnosi di quelle drammatiche, per esempio, e a dirlo al paziente? Non rendergli, diciamo... È un problema che mi pongo spessissimo e mi sono posto per tutta la mia vita. Ci sono linee di persiero diverse, però io credo che sia fondamentale che il medico che ha davanti a sé un malato che ha poche speranze, non le tolga le speranze. Bisogna lasciare sempre un barlume di speranze, anche quando speranze non ce ne sono. E quindi la verità va detta per quello che serve al malato. È inutile entrare nel dettaglio di definire, per esempio, tutte le complicazioni che alle cure possono seguire, i rischi in cui il malato va incontro. Io ho sempre detto che il consenso informato e quel modulo che il medico deve far filmare al malato è una presa in giro. Perché il malato non ha né il tempo di leggerlo, né di capirlo, né soprattutto di fare con il medico una riflessione ampia. Io lo dico per esperienza. Sono stato operato, 4 o 5 anni fa, mi hanno portato il modulo del consenso, non l'ho neanche letto e l'ho firmato. Ma se qualcuno gliela chiede, la verità, se qualche paziente le dice mi dica, professore, come stanno le cose, vivrò, quanto vivrò? Io devo dire che nella mia vita non ho mai sentito chiedermi da un malato dottore quanto avrò da vivere, quando morirò. E non è che poi, se uno dice, se fa questa domanda il medico risponde non la verità, quando dice non lo so. Perché nessuno può stabilire quanto ha da vivere un malato. Non credo che sia possibile. Io ricordo l'esempio di un grandissimo amico mio. Era un professore di altissimo livello, un grande scienziato, che aveva un linfoma terribile, che noi abbiamo curato per anni, curato bene, però purtroppo alla fine non ce l'ha fatta. Quando era arrivato quasi alla fine, io andai a trovarlo con grande difficoltà, perché per un medico andare a visitare un malato quando sa che non ci sono più possibilità non è un piacere. Bisogna vincere la resistenza che il medico ha, però il malato ci tiene moltissimo a vedere il medico. Io andai a trovarlo, sapevo che aveva pochi giorni di vita. Entrai e ho detto adesso mi chiede, che lui sapeva tutto della sua malattia. Io entrai da lui, ci davamo del tuo e lui mi disse, beh Franco come vanno i tuoi problemi con l'ematologia? Il giorno dopo questo malato era morto. Non mi ha chiesto niente. Sapeva che sarebbe morto, ma non ha voluto sentirlo dire da me. Il medico deve muoversi, lei dice nella sua riflessione, tra scienza e coscienza. Possiamo sperare nelle nuove generazioni di medici perché la parte che riguarda la coscienza diventi sempre più importante? Che aria tira, diciamo così? Ma io sono fiducioso, sono fiducioso perché penso che i giovani in tutto il mondo, ma in Italia anche, dove abbiamo una sanità che secondo me è fra le migliori del mondo, noi parliamo sempre di mala sanità, ci dimentichiamo di parlare di tutta la buona sanità che è di molto superiore alla sanità brutta. Io credo che i giovani abbiano nell'animo, i giovani che sono adatti a fare il medico, giovani che sanno che cosa vuol dire curare un malato, devono saperlo e devono capirlo prima di laurearsi. Come devono capirlo gli infermieri? Perché anche gli infermieri hanno un grosso ruolo, perché è l'infermiere che di notte quando un malato è ricoverato lo vede, non è il medico di guardia, il medico di guardia viene chiamato raramente, quindi si instaura un rapporto che non è medico-malato, io anzi preferisco dire malato-medico, perché al centro di quel rapporto è il malato, non il medico. Il medico è pagato per curare il malato, piccolo particolare, il malato non è pagato per fare il malato, quindi il malato è al centro di tutto e deve essere il malato che aiuta anche il medico, perché parlando col medico il malato ti fa capire quali sono le domande che vorrebbe fargli, qual è il tempo che il medico deve dedicare al malato, perché non bastano pochi minuti, ma servono dei minuti in cui il medico si concentra sul malato, si concentra solo sul malato. Stiamo parlando di atteggiamenti importanti che non sono un qualcosa in più, ma sono funzionali alla guarigione, penso per esempio al tumore. Io sono convinto che i tumori, io mi occupo di tumori del sangue, che siamo fortunati, sono i più curati, però chiaramente il tumore è un qualche cosa che colpisce moltissimo, perché la maggioranza dei pazienti con tumori rari, per esempio il tumore del pancreas, non hanno possibilità di guarigione, però devono essere assistiti con amore, perché l'amore per il malato fa sì che il malato non si senta mai solo. Insieme al malato devono essere coccolati, il termine esatto è questo, anche i parenti. E in questo ruolo hanno un'importanza notevolissima, e io ne parlo a lungo nel mio libro, i volontari. Volontari che hanno un grande dono, non vengono pagati, tutto quello che fanno lo fanno per amore nei confronti dei malati. Noi abbiamo dei volontari che si sacrificano, abbiamo avuto dei volontari che hanno lavorato in ospedale fino a 70 anni e quando sono andati via sono venuti a ringraziarmi per quello che avevano avuto dai malati, dai medici e dagli infermieri, perché all'inizio infermieri e medici che sono pagati non vedono magari molto bene il ruolo dei volontari, li vedono quasi come un po' un'alternativa non valida. Invece a lungo andare si accorgono che volontari, i medici e i infermieri tutti insieme fanno squadra, creano un qualcosa che è valido per il malato. È una squadra che aiuta il malato nella battaglia che deve percorrere contro il suo tumore, contro queste malattie qualche volta terribili, qualche volta difficili da curare, ma che con una speranza in più che deve essere data al malato, col personale vicino a lui, possono veramente portare dei risultati incredibili. Grazie, ringrazio il professor Franco Mandelli, curare e prendersi cura. Grazie mille a lei, grazie.